Buongiorno a tutti, oggi si discuteva in Assemblea Capitolina il piano di rientro presentato dal sindaco e dalla giunta e abbiamo parlato che questo piano di rientro prevede una riduzione degli sprechi della spesa corrente di 450 milioni e leggendolo sostanzialmente abbiamo visto che ricalca quelle che sono state le proposte che abbiamo presentato in Assemblea Capitolina in commissione e revisione della spesa in questo anno. La giunta fino ad ora ha perso la nuova epoca anche perché non ha realizzato quelle che sono state le nostre proposte e vediamo se si comincia a tagliare gli sprechi di Roma e delle sue municipalizzate. È un anno che facevamo queste proposte, le abbiamo consegnate formalmente al vice sindaco il 7 aprile e al sindaco il 25 aprile e adesso si vengono in aula e propongono alcune cose che sono veramente dei copi e in colla, ma ben becca così. Una cosa che ci lascia però sconcertati è che in realtà quello che non cara e non viene tagliato è la spesa per le municipalizzate e diversamente in periodo di crisi si taglia e la struttura cade sempre sui servizi sociali e servizi alle persone. Non si tagliano le municipalizzate, in particolare voglio ricordare gli sprechi di Ama. Quest'anno i cittadini romani per il decimo anno consecutivo pagheranno l'aumento della tassa dei rifiuti a fronte in realtà di un servizio che direi inesistente è dire poco.